Grazie a tutti. This year, I think things that were happening last year is repeated again, so it became pointless to have press conferences to say that the state stepped back in front of the fascist nationalists and hooligans. It's pointless to repeat the same things all over again with the same people, so we made a different decision. We said, okay, this is our country, this is our city, these are our streets, so we said, okay, enough is enough, we're hitting the streets, so we did it. We informed the people and we got out in the streets, so I think this is obvious what people think. There's much more people than we thought it's going to be. We informed everyone. A lot of people were calling us, couldn't reach us because we made a, well, pretty much immediate decision in front of the government to go in front of the parliament, so here we are now. I'm really satisfied with this. I didn't expect there's so much people. As you can see, we organized ourselves and we are now back on the street and we walk and the police are also with us. And, yes, behind us and left and right and maybe in the park. And, well, we did something, but even we are here now, it was prohibited. We didn't have a game right, so it is like an action. Blitzkrieg. 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 e per il fatto di fare tutte le scoperte e anche loro, ci sono molte militantiche anarchistiche. Tutti i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi! Io sono venuto qui perché mi sento parte della comunità LGBT. Io sono solo qui perché mi sento che c'è un problema reale sui diritti. Qui e ora. E cinque anni fa, magari non ho avuto a dare, ma perché ho visto che i cinque anni fa, è sempre una malattia. Io sono sempre qui per supportare la minorità, la minorità, che è l'unico progetto di questa minorità, è avere le loro legali e le loro diritti, avere le loro meeting in un pubblico spazio, quando. Per i cinque anni fa, abbiamo lavorato per loro, abbiamo lavorato per loro, abbiamo lavorato per loro, abbiamo lavorato per loro, quindi questi sono i nostri ruoli, non possiamo stoppare, siamo qui, siamo presenti, e possiamo farlo la parola, ma non possiamo farlo la parola, ma non possiamo farlo la gente.